Mi soggiorno del buon giuro, te ci lami una volta e te ci lì più. L'importanza di un piatto naturale e semplice. Ecco che finalmente siamo giunti di poter mangiare qualcosa di genuino, olio di frattoio e bruschetta, cioè pane tagliato a fette e messo nel forno a legna. E' una cosa che tutti possiamo fare, con poca spera e poco tempo. Ed è identitario. E dopo un bel bicchiere di Moretto, aggiusta tutto. Allora salute. Questa è aristocrazia duracruxiana, miei cari, cari, cari.